Per Alessandria oggi siamo nuovamente in compagnia di Gigi Moncalvo, scrittore e opinionista. Era davvero il caso di fare una manifestazione dopo l'ultima sparata di Sgarbi sul ponte Meier? Il caso di fare una manifestazione sì, perché se uno dice delle stupidaggini è bene in qualche modo rispondergli, se si risponde da soli è un fatto, se si risponde in tanti su un ponte con una manifestazione è meglio. Quello che mi meraviglia è che Sgarbi sia stato invitato a fare una lexio magistralis all'ambito universitario, cioè l'Università del Piemonte Orientale. Dovrebbero ben sapere gli organizzatori di queste manifestazioni che si fanno un po' prendere dal provincialismo, dal nome altisonante, invece di farsi prendere dei contenuti accademici, didattici, culturali, che prima di far parlare Sgarbi occorrerebbe fare un esame antidoping. Nel calcio, nel ciclismo si fa dopo, qui bisognerebbe farlo prima. Sgarbi, se avete notato, negli ultimi mesi ha o è sbarrellato notevolmente, c'è una ragione. Finché è stata viva sua madre, la temibile, la fortissima, l'intelligentissima signora Rina, la titolare della farmacia di Roferrarese, dove la signora Rina lavorava alla farmacia Sgarbi, recentemente è morto anche il marito della signora Rina, cioè il papà di Vittorio Sgarbi e di sua sorella Elisabetta, beh, da allora Sgarbi ha sbarellato. Perché? Notatelo. In televisione spesso lo vedete stropicciato, con il capello non fonato, con la barba da tagliare. Questa cosa fino a qualche mese fa non avveniva. Perché? Perché dall'altra parte dello schermo Sgarbi sapeva che c'era sua madre, che subito dopo lo avrebbe chiamato per sgridarlo, per dirgli tu attraverso una telecamera entri nella casa degli altri, devi presentarti perfettamente in regola. Lavato, profumato, stirato, altrimenti fai fare brutta figura a te stesso e anche a me che sono tua madre. Quindi finché c'era sua madre lui teneva, teneva alla suo aspetto, ma teneva anche alle forme verbali, anche se poi ogni tanto sbaraccava. Morta sua madre, purtroppo, una grave perdita, lui non ha più questo confronto, questa persona che lo sgrida, questa persona che lo tiene in riga, perché Sgarbi ha bisogno di essere tenuto in riga. E il problema non è né di coloro che sono andati a fare la manifestazione sul Ponte Meier, ma il problema è di chi in quell'aula magna dell'università ha riso, ha applaudito, ha condisceso a quelle parole, i vicompresi molti professoroni o presunti tali che avevano voluto quella manifestazione. Quindi il problema è delle sciocchezze che Sgarbi dice al solo scopo di far ridere. Un Alexio Magistrali non è uno show, non è un programma televisivo in cui ci vuole l'audience, deve essere una cosa in un ambito universitario, didattica, culturale, piena di contenuti e non di barzellette. Chi voterà le prossime elezioni per Palenzona? Beh, bella domanda perché tu hai scelto il personaggio più potente, più importante della provincia di Alessandria e non solo per vedere da che parte starà. Ora, da che parte sta Palenzona non si è mai capito bene, lui sta sempre, secondo me, la sua linea politica è la seguente. Il cuore a sinistra o a destra, il cervello a destra o a sinistra, ma soprattutto il portafoglio e il sedere, Palenzona ha un grande sedere, un maxi sedere, al centro. Quindi la poltrona prima di tutto e il portafoglio prima di tutto. Allora, Palenzona formalmente dovrebbe votare PD, dovrebbe votare PD, ma Palenzona negli ultimi mesi ha litigato con Renzi. Mentre Renzi, prima di diventare presidente del Consiglio, cercava spesso Palenzona e lo utilizzava affinché Palenzona mettesse a sua disposizione il network di poloscienze di potere che Palenzona aveva ed ha banche, banchieri, finanzieri, grandi imprenditori, boiardi di Stato, grandi suggeritori, eccetera. Pensate che Palenzona era ed è così potente che Renzi una volta fu chiamato da Palenzona, tra le altre cose, e gli disse ho bisogno di organizzare un pranzo con un importante magistrato, un magistrato importantissimo di una grande città italiana che vuole conoscerti, caro Matteo, e ha chiesto a me di combinare questo pranzo. Renzi accettò, Palenzona portò questa persona importantissima, stetero a tavolo, questa persona che cosa voleva? Voleva vedere se c'era la possibilità, allorché Renzi fosse andato al governo, di avere un posto da ministro della giustizia, o da sottosegretario della giustizia. Non se ne fece niente, ma questo per dirvi che Palenzona alzava il telefono e parlava con Renzi. Questo non avviene più da molto tempo, per tante ragioni Renzi ha fatto un po' il furbo e nelle loro lottizzazioni ha fatto tutto il contrario di ciò che magari Palenzona gli consigliava. E che cosa ha fatto Palenzona? Palenzona ha ripreso a frequentare la via di Arcore, la via che porta a Villa San Martino, ad Arcore, da Berlusconi, sulla base di una considerazione. Questa classe politica è priva di affidabilità e di fiducia. Se io voglio continuare a contare, a comandare, a esercitare il mio potere, devo avere dei partner politici o un partner politico che sia affidabile, che non sia un fanfarone, che non sia uno inesperto. E chi è l'unico che mi può garantire ancora tutto questo perché mi siedo a un tavolo, tratto e via? Berlusconi. Palenzona è andato molte volte a casa di Berlusconi, ad Arcore, spesso insieme a Tremonti, spesso insieme all'ex banchiere romano Geronzi, quando contava molto, adesso conta un po' meno, ma conta sempre tanto. Andò addirittura a casa di Berlusconi, quando era Presidente del Consiglio a Berlusconi, per contrattare o ascoltare le richieste di Berlusconi perché c'era da nominare il direttore del Corriere della Sera. Per fortuna di Palenzona e di Geronzi, quella volta Berlusconi fece un nome improponibile e che nessuno poteva accettare, quello di Carlo Rossella, quello di Carlo Rossella, all'ex direttore di Panorama, Rossella O'Hara, Rossella 2000, soprannominato. E allora Geronzi e Palenzona ebbero buon gioco nel dire no, per il Corriere ci vuole un nome più prestigioso e più importante, fecero il nome di Napoletano, quello che poi finì al Sole 24 Ore, che in quel momento era il direttore del Messaggero perché Caltagirone voleva sbarazzarsene e quindi disse ai suoi amici Geronzi e Palenzona suggerite lui, così lo prendono al Corriere. Per fortuna, visto quello che poi è successo a Napoletano con la storia del Sole 24 Ore, delle note spese, delle tirature fasulle, delle vendite fasulle, passò il nome di Ferruccio De Mortoli. Berlusconi si sta pentendo ancora adesso di averlo accettato, ma allora era un nome presentabile, importante, serio e affidabile, molto più di quanto non lo fosse quello di Carlo Rossella. Vedete quanto conta Palenzona. Per tornare alla tua domanda, caro Zanier, il punto è questo, Palenzona non voterà per il PD, forse voterà per una gamba del PD, quella che comprende gli ex-democristiani, sicuramente non voterà per Cavallera o Berruti, anche se Berruti è di Tortona, Cavallera è uno che gli è sempre stato contro, nel senso che tutte le volte Cavallera si è candidato contro Palenzona, anche quando c'era da fare il Presidente della Provincia, non voterà per i 5 Stelle, suppongo voterà con il portafoglio sul cuore, con il sedere al centro, ecco naturalmente con la matita con cui si fa la croce sulla scheda. Parliamo del nuovo libro di Giampaolo Panza. Dunque, il nuovo libro di Panza è molto bello, riguarda anche e soprattutto la nostra zona, e riguarda il comandante partigiano Bisagno. Bisagno è un comandante partigiano importantissimo, un partigiano non comunista, un partigiano bianco, un partigiano dunque che andava eliminato per la sua capacità di aggregare gli uomini, per la sua onestà, per la sua pulizia morale e anche per la sua fede cattolica, e il fatto di non avere la tessera del Partito Comunista. Sapete qual era l'obiettivo del Partito Comunista nel corso della Resistenza e dopo? Accumulare le armi che sarebbero servite a guerra finita, su ordine di Mosca, attraverso Togliati, per creare una nuova Jugoslavia, cioè per sovvertire il potere. Ecco perché nel corso della Resistenza vengono uccisi gratuitamente, gratuitamente, sacerdoti, professionisti, avvocati, notai, medici, cioè tutti coloro che potevano aggregare e diventare nuova classe dirigente. Dall'altra parte c'erano dei delitti afferrati anche da parte dei nazifascisti, ma sappiamo tutti com'è andata a finire. Il libro di Panza è bellissimo perché il comandante Bisagno viene ucciso, non dimentichiamoci che il comandante Bisagno era il comandante di molti raggruppamenti e di molte formazioni, anche che operavano in Valborbera, a cavallo tra Genova e il Po, ma soprattutto era il diretto superiore di un altro grande comandante partigiano bianco. Aurelio Ferrando, detto Scrivia, il cui figliolo, un professore universitario molto bravo, molto prestigioso, molto importante, non ha avuto tutti i riconoscimenti che avrebbe meritato per il cognome che porta, riconoscimenti professionali, sì, perché è molto bravo, molto preparato, ha talento e ha dei meriti, ma a livello politico a Novi Ligure è possibile che un personaggio, un uomo come il figlio del comandante Scrivia, come il figlio di Aurelio Ferrando, non meritasse di diventare sindaco, è stato per qualche breve tempo assessore, ma i comunisti a Novi Ligure sono ferrovieri, non vogliono, anche se poi non c'è neanche il treno che collega Novi a Tortone e viceversa, pensate poche politiche ferroviarie, quindi una persona intelligente che sa leggere e scrivere come il figlio di Aurelio Ferrando e come tanti altri, penso al professor Bruno Soro, Mauro Soro, a tutto quello, a Franco Contorbia, che è dimenticato, mai viene invitato a presentare i suoi libri, mai gli viene consegnata la cittadinanza onoraria di Novi Ligure, le chiavi della città o il famoso premio Marchetta che in questi ultimi anni hanno dato a Todos Caballeros, a Nani e a Ballerine. Quindi io vorrei lanciare un appello attraverso Alessandria oggi, possibile che non ci sia in tutta la provincia di Alessandria, un comune, un sindaco, una giunta, un consiglio comunale che decida all'unanimità di conferire la cittadinanza onoraria a Giampaolo Pansa, un alessandrino, un casalese, quindi un nostro conterraneo emerito, importante, coraggioso, basta fargli scontare il fatto che finché era di sinistra andava bene, lo accoglievano tutti, eccetera, adesso non che è di destra, adesso che ha cominciato da anni a scrivere la verità su questa pagina oscura della Resistenza, vista dall'altra parte, possibile che venga trattato come un lebroso? Vanno a comprare il libro, perché i libri sono vendutissimi, ma non si fanno vedere, chiedono di metterlo in una busta il libro, di metterlo nel sacchetto, ma non vogliono farsi vedere. Allora, c'è un sindaco di buona volontà che abbia il coraggio di proporre, di offrire la cittadinanza onoraria del suo comune a Giampaolo Pansa? Vediamo un po' se ci sono dei qua, 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 se ci sono delle persone con la schiena dritta o se ci sono delle persone per bene che ragionano con la loro testa. Alessandria, di nuovo sugli scudi in televisione, un nuovo protagonista all'orizzonte. Un nuovo protagonista, io faccio il tifo per lui, spero di portargli bene, si tratta di Alberto Menino, 23 anni e nei 5 finalisti di Masterchef su Sky. Quindi Alberto Menino, che è un ragazzo molto bravo, lo vedete, molto educato, molto preparato, fa il micologo, cioè è un esperto di funghi e di tartufi. Lavora con suo padre in un'azienda in Valle Staffore e hanno anche un punto vendita in Valle Staffore a Pontenizza, ma hanno un punto vendita anche dalle parti di Tortona. Ebbene, io spero che Cannavaciuolo, che Bastianich, che Bruno Barbieri, che la signora Klugman, che è la più terribile di tutti, pensino che questo ragazzo, questo giovane, oltre ad essere davvero preparato, è un vero personaggio televisivo, con il profilo giusto, con l'intelligenza giusta, con la caratura giusta, per diventare il nuovo Masterchef, come noi gli auguriamo di tutto cuore, sperando di portargli fortuna. Grazie a Gigi Moncalvo, Gianmaria Zagner, Alessandria Oggi Grazie a tutti.